Ciao, mi chiamo Daniel, sono un medico e in questo video ti dirò tutto quello che devi sapere su Insumed, ti darò anche un avvertimento molto importante per non mettere a rischio la tua salute, quindi presta molta attenzione a questo video e rimani fino alla fine per non perderti nessun dettaglio. Vi starete chiedendo che cos'è Insumed e se funziona davvero. La risposta è sì, Insumed si basa su ingredienti naturali con un ampio spettro d'azione. Il rimedio ha effetti positivi su tutto l'organismo, pulisce i vasi dalle placche di colesterolo, riduce l'ipertensione, migliora il funzionamento del sistema cardiovascolare e nervoso, favorisce la perdita di peso, normalizza il metabolismo dei carboidrati e migliora le prestazioni. Il farmaco consente di normalizzare la licemia e non comporta un carico aggiuntivo sugli altri organi. Poiché è uno dei prodotti più venduti, Insumed è stato utilizzato da migliaia di persone in tutto il mondo e nessuno ha lamentato effetti collaterali. Se soffrite di secchezza delle fauci e sete costante, aumento dell'appetito, affaticamento rapido, sonnolenza, minzione frequente, prurito e scarsa rigenerazione della pelle, prendete Insumed uno o due volte al giorno, assumendo le capsule durante il pasto. Il ciclo di trattamento è di 90 giorni e presto vi sentirete più energici, vi sentirete meno gonfi, non andrete più in bagno così spesso, la licemia sarà regolata e inizierete a condurre una vita normale. La grande richiesta di questo prodotto ha portato alla comparsa di molte contraffazioni, ma l'originale Insumed è venduto solo sul sito ufficiale. I prodotti falsi non solo non funzionano e fanno perdere denaro, ma possono anche mettere a rischio la salute. Per aiutarvi ho inserito il link al sito ufficiale nella descrizione di questo video, in questo modo potrete essere sicuri di ricevere il prodotto originale. Cliccando sul link nella descrizione sarete reindirizzati al sito ufficiale e potrete effettuare l'ordine, basta compilare i campi con il proprio nome e numero di telefono e attendere la chiamata di un rappresentante, che deciderà con voi la quantità da ordinare. Il prodotto arriverà a casa vostra in pochi giorni e pagherete solo quando lo riceverete. Se non siete ancora sicuri di acquistarlo o meno, Insumed offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se il prodotto non è di vostro gradimento per qualsiasi motivo, potete contattare l'assistenza per ottenere un rimborso completo. Ma affrettatevi, migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo i sorprendenti effetti di Insumed e ne ordinano fino a 3 unità alla volta, e per mantenere la qualità del prodotto, vengono prodotte solo 2000 unità di Insume dall'anno, il che significa che potreste esaurire la vostra, quindi affrettatevi ad acquistare prima che si esaurisca. Ricordate che questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale e il link al sito ufficiale e nella descrizione di questo video.Spero che questo video vi abbia aiutato, che possiate essere con Dio, a presto.